Allee! 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 Dai, dai, dai! Dai, 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 dai! Dai, dai, dai! Alla terzo posto! Miami! Fanno benissimo! Arrivano! Vieni! 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 Davide! 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 Vieni! 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 Hai entreti si. Dai ripa! Dai ripa! Dai ripa! Dai in! Da in! Dai in! Tu qui! Vai. Vieni! Dai Fontana! Antonio La Torre, della fronte mia per la predica, il professor Renato Manova. E' un'altra gara. E' un mio caso! E' un'altra gara! E' un'altra gara, come dice che è un bando dal centro del 43. E' un'altra gara! Vai Ema! Dai Ema! Dai! Dai Dai! 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 Vieni Fondana! Eh! 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 25 minuti e 30 secondi di gara che insidiamo da 60 anni continui Varega e Gioffia Ceputai in gara Pieprivest e Gioffia Fidono Serez, Varega Intanto chiedo ai primi tre allievi per me scusate in area di premiazione 2 tutti stupiati E' bravo, non hanno seduto i cicli di gara eh bravo ma non c'è il cibo di gara 4 E' in passione e' in passione avremo il fiscale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.